Cambiano le regole per l'esenzione del ticket per reddito. La nuova norma di esenzione in vigore dal 21 gennaio 2012 vale sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e su quelle farmaceutiche. Abolito il modello del sistema di esenzione per reddito basato sul calcolo ISEE, adesso ci si dovrà basare sull'età e sul reddito complessivo del nucleo familiare. La riforma entrata in vigore senza avvertire preventivamente gli assistiti e i medici prescrittori si avverrà di una fase transitoria che si protrarrà fino al 30 aprile 2012. Fino a quella data infatti i soggetti che riterranno di rientrare tra le categorie esentate potranno ricorrere alla autocertificazione apponendo all'atto dell'erogazione della prestazione sanitaria una firma nell'apposito spazio della ricetta. Cambiano le regole per l'esenzione del ticket, come dovrà comportarsi il contribuente? Il contribuente dovrà fare delle autocertificazioni se ritiene di rientrare in determinate categorie o fasce di reddito. Nello specifico se si ha da 0 a 6 anni o superiore ai 65 anni di età non deve fare niente. Se invece rientra nelle categorie protette per esempio con dei redditi inferiori agli 8 mila euro per se si è pensionati o si è figli a carico bisogna presentare una certificazione presso l'ASL di competenza o comunque se l'ASL di competenza non accetta le autocertificazioni si può presentare direttamente al CAF convenzionato con l'ASL affinché si può accedere ad avere questi benefici. Vogliamo ricordare per esempio che possono presentare queste autocertificazioni disoccupati ai loro familiari a carico oppure pensionati con i loro familiari a carico. L'importante è che non abbiano dei redditi superiori a 8.263 euro nello specifico. Gli utenti potranno accertare se il proprio nominativo è contenuto nell'elenco dei soggetti esenti sul sistema testera sanitaria richiedendo la verifica al proprio medico di medicina generale. Per verificare le condizioni di esenzione del proprio assistito i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta dovranno utilizzare l'elenco disponibile sul sistema testera sanitaria o richiedere l'elenco degli esenti all'ASL competente. Gli assistiti che non sono inseriti negli appositi elenchi ma che ritengono di possedere requisiti per beneficiare dell'esenzione potranno rivolgersi agli uffici distrettuali dell'ASL muniti della propria testera sanitaria per rendere un'autocertificazione e ricevere il relativo tesserino. A conclusione della fase transitoria entro il prossimo 30 aprile per consentire la messa a regime del nuovo sistema di esenzioni per condizione economica e al fine di evitare disagio alla popolazione, le nuove ASP siciliane potranno stipulare, così come riportato dalla circolare emanata dall'assessore per la salute Massimo Russo, apposite convenzioni con i soggetti che hanno già svolto in passato le funzioni di assistenza fiscale finalizzate a rilascio del certificato ESEE che dava diritto all'esenzione secondo la precedente normativa quali CAF e comuni. A tutti i livelli abbiamo fatto delle informazioni, qui abbiamo aperto degli sportelli anche per fare delle informazioni, anche nelle altre strutture so che sono aperti sportelli di informazione per esenzione di ticket per reddito, chiaramente è cambiata un po' l'esigenza della popolazione. E i contribuenti come stanno reagendo? C'è un incremento notevole delle esenzioni di ticket per patologia, quindi si stanno riscoprendo le esenzioni di ticket per patologia, mentre prima si usufruiva del reddito, oggi si ritorna più all'esenzione per patologia e quindi c'è un'affluenza maggiore negli sportelli di esenzione di ticket per patologia. Ma tra i contribuenti serpeggia già il malumore e la ferma convinzione che non sia stata ancora fatta un'adeguata informazione. Signora, nuova esenzione per il ticket, c'è stata abbastanza informazione? Un po' così. Mi sembra che siamo peggio di prima. A me non mi interessa perché io supero di poco e divendo milionario. Abbastanza informazione non direi, ovviamente non direi, perché ho fatto tre o quattro viaggi, quattro volte che sono venuto qua, ci vogliono un sacco di documenti, non capisco perché.